Una sanità sempre più digitale, a cosa andiamo incontro e quali sono le innovazioni più significative? In generale sarebbe opportuno forse ripensare al federalismo e che le regioni ricominciassero a parlare tra di loro attraverso un coordinamento unico del Ministro della Salute, questo è il mio personale pensiero, perché se no si corre il rischio che ogni regione sviluppi proprie applicazioni che poi non riescono a dialogare con le altre regioni. Nel nostro piccolo invece abbiamo sponsorizzato una bellissima idea del professor Gensini che sono applicazioni di uso quotidiano per il medico che gli consentono di rendere il suo lavoro molto più tranquillo, sicuro, efficace e dare anche maggiore sicurezza al paziente.